Contenere i prezzi del cibo e dell'energia alle stelle, occuparsi dei problemi della sanità e dare spazio a una maggiore giustizia sociale. Sono questi i punti principali del governo di centro-sinistra in Slovenia guidato da Robert Golob, il leader del Movimento Libertà, partito liberale progressista vincitore delle elezioni del 24 aprile scorso e il nuovo premier incaricato in Parlamento ha ricevuto 54 voti a favore e 30 a contrari. Golob ha promesso di mantenere fede al programma elettorale, desideriamo vivere in un paese che offra giustizia e solidarietà dichiarato e che sia fondato sulla conoscenza. Alla coalizione di centro-sinistra, annunciata da Golob e formata dai socialdemocratici e da sinistra, si sono aggiunti anche i voti dei due deputati delle minoranze autoctone italiana e ungherese. Golob è l'esatto opposto di Janes Janš, l'ex premier del governo nazionalista sloveno, alleato storico di Viktor Orban, primo ministro ungherese. Per il piccolo paese dell'Unione Europea, dopo anni di misure repressive contro la magistratura, i media e le organizzazioni civili, si apre ora una nuova era.